Ciao a tutti e ben ritrovati, allora quest'oggi andremo a studiare che cos'è una query a campi incrociati in access allora per fare un esempio molto veloce, se noi andiamo ad esempio su Excel e abbiamo una pivot che contiene dei dati e ci tiriamo giù le informazioni, vedete che quando noi tiriamo giù i vari campi li mettiamo in riga quindi in riga il dato è verticalizzato, quindi ci tiriamo giù anche il reparto e poi abbiamo magari anche la misura che andiamo a metterla dentro alla parte dei valori sul riquadro che è di qua ipotizziamo che adesso noi vogliamo orizzontalizzare lo stabilimento, quindi non lo vogliamo mettere in riga ma lo vogliamo mettere in orizzontale quindi prendiamo lo stabilimento e lo mettiamo sulle colonne, ecco che noi siamo andati ad orizzontalizzare quel campo là su Excel pivot permette di mettere anche più campi, su access ne possiamo sempre mettere solo una ma ipotizziamo che mettiamo il reparto, vedete che io ho reso la data univoca sulla sinistra e ho scomposto le ore di lavoro tra praticamente stabilimento di lavoro e il reparto che appartiene allo stabilimento quindi adesso andiamo a fare questa cosa qua con access allora io ho creato due tabelline e due esempi perché ad esempio su Excel noi possiamo sempre mettere sul riquadro dei valori dobbiamo mettere sempre una misura, invece con access possiamo mettere anche dei campi alfanumerici e adesso vedremo i casi, allora la prima l'ho fatta con il calendario, esattamente quello che abbiamo visto adesso su Excel quindi abbiamo queste informazioni, ipotizziamo che vogliamo orizzontalizzare o lo stabilimento o il reparto e poi magari proviamo a farci anche un filtro allora andiamo a fare, vediamo anche il risultato, vedete ad esempio qui ho appunto la di slam vedete che appunto sul calendario ho aperto la query sbagliata, la premiamo la prima vedete ho orizzontalizzato il reparto, quindi ho il reparto fini e il reparto sald e qui ho lo stabilimento con la data che poi va a doppiarsi allora vediamo come si fa a fare una query a campi incrociata menu crea, struttura query e poi premiamo sul bottone a campi incrociati quando noi passiamo da selezione a campi incrociati qui cambiano le cose come abbiamo visto in precedenza quindi quando premiamo qua vedete che passa sempre e ci dà le informazioni necessarie campi incrociati, difatti qua noi dovremmo definire quelle cose che stanno praticamente sul riquadro dovremmo dirvi se è una riga, una colonna oppure è un valore ovviamente il filtro che è un campo pagina sulle pv di Excel è una cosa che esiste solo su Excel su Access ne abbiamo tre, quindi abbiamo le righe, le colonne e i valori allora tiriamo dentro la tabellina con la quale vogliamo lavorare il calendario eccolo qua allora abbiamo detto che noi vogliamo tirarci giù la data poi vogliamo prenderci lo stabilimento, il reparto e anche le ore allora dobbiamo definire queste cose qua quindi la parte di campi incrociati dobbiamo dirgli ok come devono funzionare questi campi qua allora quello di data noi lo mettiamo solo in testazioni di riga perché noi vogliamo che rimanga la colonna in verticale esattamente così come già esiste infatti se abbiamo il calendario ok questa rimane in riga significa che questa colonna non viene modificata ogni record rimane nella sua riga originaria poi anche lo stabilimento lo mettiamo in riga perché noi andremo ad ottenere un risultato di questo tipo dove avremo appunto la data, lo stabilimento e orientalizzeremo il reparto il reparto invece appunto andiamo a dirgli a posto di riga andiamo a dirgli in colonna, in testazione colonna quindi tutto quello che ci sarà dentro qua prenderà i valori univaci e li porterà in orizzontale le ore è la nostra misura all'interno della pivot tradizionale quindi qui li dobbiamo dire valore però non possiamo fare un raggruppamento di numero quindi dal raggruppamento li dobbiamo dire ad esempio fammi la somma piuttosto che prendimi il valore minimo piuttosto che il massimo o altro quindi in questo caso gli diciamo la somma quindi cosa dobbiamo fare per avere una query a campi incrociati funzionante definire sempre un valore definire un'intestazione colonna e definire un'intestazione in riga quando ci sono questi tre elementi la pivot che faremo con access funzionerà intestazione in riga ovviamente ne possiamo mettere quante ne vogliamo ovviamente meno ce ne sono e lui più andrà ad aggregare infatti se io qua vado a togliere lo stabilimento ok ce lo mettiamo su vedete che la data diventa univoca e qui va a sommarmi in tutte le varie informazioni rendendo l'informazione appunto univoca per la data qui succede la stessa cosa quindi visualizza vedete che mi trovo lo stabilimento splittato sullo stesso giorno e poi ho il valore di calendario inserito dove ce l'ho allora vedete che qui ad esempio su sef sullo stabilimento di sef non ho nessun reparto sotto saldo quindi non mi da nessun valore in questo caso qua andrebbe fatta poi un'altra query per gestire questa cosa qua e magari metterci lo zero se serve ipotizziamo che vogliamo fare come con excel non facciamo altro che di andare anche qua e li diciamo al posto di fare intestazione di riga li dici non visualizzato vediamo un po che cosa succede non è visualizzato quindi trovo sempre tutto splittato però trovo sempre si trovo sempre tutto splittato però non trovo il campus invece vogliamo proprio ometterlo lo togliamo e ecco che arriva il nostro risultato ipotizziamo che vogliamo mettere anche un filtro adesso quindi a noi ci interessa di prendere il reparto ci ritiriamo giù anche lo stabilimento lo mettiamo in intestazione riga come prima però il reparto vogliamo prenderci solo il fini quindi facciamo un bel dove e gli diciamo fini quindi la riga di criteri è questa che c'è anche l'ordinamento in mezzo e gli diciamo fini perfetto se noi adesso andiamo ad eseguire questa e qui abbiamo messo appunto il dove quindi questo campo non è una ripetizione facciamo esegui ecco che compare solo fini quindi ipotizziamo che adesso noi togliamo il reparto e mettiamo in colonna lo stabilimento noi abbiamo praticamente incolonnato lo stabilimento e abbiamo il risultato per il reparto di fini che potrebbe essere magari la conclusione della nostra filiera lavorativa e così appunto otteniamo il giorno o quante ore si lavora per ogni stabilimento ok questo è un esempio quindi tra campi alfanumerici dati e misure da mettere sul valore vediamo un altro esempio con i valori alfanumerici quindi ad esempio questo vedete se io vado qua e mi prendo queste informazioni qua e poi qui ci faccio una bella pivot e mi tiro giù le informazioni ok allunghiamo un po' ci tiriamo giù anche la caratteristica e poi voglio tirarmi giù il valore ok vedete quando tiro giù il valore lui qui mi fa un conteggio non è che mi riporta giù i valori che ci sono dentro alla nostra pivot facciamo così così si legge meglio ok lui tira giù praticamente vedete qui c'è praticamente il valore della mia caratteristica e qui me lo mostra se lo uso nei campi righe però se lo mettere nei valori mi dà praticamente i conteggi perché la pivot ragiona sempre con le misure invece access da questo lato è più strategico ipotizziamo che qui abbiamo tutto in verticale quindi anche qua se noi dopo dobbiamo andare a filtrare questa tabellina qua adesso mettiamo questo valore qua ad esempio e vogliamo magari andare a metterci un filtro dinamico facciamo ad esempio analizza andiamo inserisci filtro adatto e ci prendiamo la caratteristica e il valore ecco che abbiamo i filtri dinamici quindi io per sapere il valore della caratteristica di tar ok non lo so perché quando io tiro giù il filtro anche se avessi il campo sui campi pagina io non so quali di questi valori corrispondono alla tar quindi magari potrei fare confusione adesso l'ho beccato ad esempio vedete il 10m è alla dislam quindi obbligheremo sempre l'utente ad andare a selezionare per prima la caratteristica e questa magari non è una buona cosa potrebbe essere utile magari fare dei campi specifici facciamo un campo per la di tar e un campo per la di slam allora come funziona ecco qua la seconda query andiamo in struttura come la prima ci tiriamo dentro la tabellina andiamo su campi crociati e qua diamo appunto le informazioni quindi in testazione riga sull'articolo sulla descrizione in testazione riga la caratteristica abbiamo detto che vogliamo creare il nostro campo specifico e sul valore mettiamo appunto il valore però non possiamo mettere somma perché stiamo trattando un campo alfanumerico però dobbiamo sempre operare con una formula di aggregazione quindi dobbiamo dirgli un max o un min anche qua se mettiamo raggruppamento e lo facciamo girare non funziona perché lui si aspetta sempre di ottenere nel caso in cui ci sia un record duplicato ad esempio abbiamo matita grossa qui e abbiamo matita grossa qui lui non mi estrae due righe ma ne deve sempre estrarre una quindi lui deve sempre aggregare quindi in questo caso gli potremmo dire max stavo dicendo una scorrettezza ad esempio abbiamo matita grossa con K7 e matita grossa con K6 lui una delle due deve andare ad ottenere perché solo una ne può assegnare solo un valore può essere assegnato sotto la stessa caratteristica per i stessi campi che sono stati messi in riga difatti se andiamo ad eseguirlo vedete che qui ad esempio matita grossa mi prende l'H7 perché? perché noi qui abbiamo detto il max se mettiamo il minimo ci riporta l'H6 ok? quindi questa è un po' la regola a cui bisogna fare attenzione ultimissima cosa e poi abbiamo concluso praticamente vedete che qui ci sono degli spazi oppure anche sul calendario che dicevamo prima perfetto vogliamo mettere lo zero qui dobbiamo poi fare un'altra query quindi crea struttura query ci tiriamo dentro la prima ci tiriamo giù tutte le informazioni ok? e qui magari andiamo a mettere gli zeri dove non c'è informazione quindi dovremmo andare qui sul campo sald facciamo un bel due punti gli diciamo if con due f apriamo la tonda e poi gli diciamo se praticamente con la quadra scriviamo il campo sald è uguale a nullo allora metti zero altrimenti riscrivi il campo sald questo è l'if praticamente in access poi li riprendiamo queste cose qua quando andiamo un po' avanti con le lezioni e facendo questa cosa qua praticamente cosa succede? se noi le eseguiamo adesso darà errore perché c'è un riferimento circolare qua li mettiamo in underscore poi approfondiamo nelle prossime lezioni se eseguiamo vedete che è andata in errore perché non è uguale ma è is null eseguiamo e ecco che noi abbiamo ottenuto il nostro risultato perché con uguale a virgolette a virgolette non ha funzionato perché in realtà non era un bianco stiamo parlando di numeri e quindi quando non c'è l'informazione è nulla quindi il campo è nullo anche su query campi incrociati dove non trovo l'informazione lui qui scrive null non è un campo blank che sono sempre due cose differenti comunque l'if poi lo riprendiamo poi nel corso quando arriviamo giù sulle funzioni logiche lo approfondiamo bene 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 con questa lezione direi che è tutto spero di essere stato abbastanza chiaro e che abbiate compreso bene come funziona la query a campi incrociati l'importante è che ricordate sempre un po' il funzionamento della pivot e sapete che potete orizzontalizzare al massimo un campo come sempre lasciate un like se vi fa piacere condividete la risorsa nei vostri social così mi aiuterete a far crescere il canale iscrivetevi se non siete iscritti vi ringrazio molto per l'attenzione ci vediamo alla prossima puntata a presto ciao ciao